Assessore, qual è dopo il 10 di marzo lo stato a riguardo delle vaccinazioni nel nostro comparto scolastico? Il 27 febbraio è intervenuta una nuova circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione che ha semplificato un po' la vita almeno per le istituzioni e le famiglie delle cosiddette regioni virtuose. Quelle regioni che hanno un buon tasso percentuale di copertura e hanno anche realizzato un'anagrafe vaccinale. E questo è il caso della Regione Marche. Questo ha cambiato un po' le carte in tavola negli ultimi giorni prima della scadenza che era stata indicata dalle circolari di settembre e del 10 di marzo e ha consentito ai dirigenti scolastici e ovviamente agli enti locali che come nel caso di Fano gestiscono una serie di servizi come i nidi e le infanze comunali di trasmettere direttamente all'Asur il complessivo dei dati riferiti all'utenza. Sarà quindi l'Asur poi a verificare chi sono gli utenti inadempienti e con una serie di passaggi si arriverà sostanzialmente fino a una nuova deadline che non è quella più del 10 di marzo ma è quella del 30 di aprile entro la quale ci sarà una verifica puntuale di chi effettivamente non ha intrapreso il percorso per l'obbligo vaccinale. Dopo il 30 di aprile c'è sì il rischio che i bambini che non abbiano intrapreso questo percorso che non abbiano avviato questo percorso siano sospesi dai servizi 0-6 anni. Ovviamente l'auspicio è che da qui al 30 di aprile ci siano le condizioni anche con la collaborazione dell'Asur di poter completare il quadro e avere la stragrande maggioranza se non tutte le bambini e i bambini interessati in regola ma al tempo stesso l'auspicio che io mi permetto di fare è che da parte anche del Ministero della Salute come quello dell'istruzione ci siano poi ulteriori indicazioni che ci consentano comunque di garantire la continuità del percorso educativo per concludere l'anno scolastico. Ovviamente questa è un'aspettativa e un auspicio che io rivolgo alle autorità competenti ma è chiaro che in assenza di questo dopo il 30 di aprile applicheremo come corretto e doveroso fare ovviamente quello che prevede la normativa. Diciamo di non essere interessati da questo rischio.